Accelerare le procedure di destinazione definitiva degli immobili confiscati alle mafie, questo l'obiettivo condiviso emerso dalla riunione a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, presieduta dall'assessore regionale alla legalità Vittorio Buglia, a cui hanno partecipato sindaci e amministratori. Alle loro domande e alla richiesta di non essere lasciati da soli, ha risposto il direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, Bruno Frattasi. Noi abbiamo dato proprio questa garanzia ai comuni stamattina, sia l'assessore, sia il prefetto e anche il direttore dell'Agenzia, cioè che non li lasciamo soli assolutamente di fronte a queste difficoltà, che siamo a loro fianco, a loro disposizione, che le difficoltà che loro hanno sono anche le nostre, quindi le condividiamo e insieme troviamo le risposte giuste. In Toscana sono 135 gli immobili confiscati e assegnati e 11 le aziende, ma conti alla mano potrebbero già essere molti di più, da qui l'esigenza di accelerare i tempi anche per evitare che gli edifici, come molto spesso accade, si deteriorino o siano vandalizzati. È importante che subito dopo il sequestro, per esempio, sia possibile un utilizzo temporaneo dell'immobile, condiviso da tutti, ovviamente comandato in questo caso dal magistrato. Questo è uno dei punti su cui lavorare per un protocollo tutti insieme. è altresì importante che dopo il secondo grado, nella procedura di confisca definitiva e quindi poi di assegnazione, si abbia già la possibilità di fare un progetto d'utilizzo. Un anno fa la Regione si è vista assegnare la tenuta di Suvignano, tra Monteroni d'Arbia e Murlo, dove sono già stati organizzati una festa della legalità con enti locali e associazioni e due campi di lavoro con i ragazzi. Grazie a tutti.